Una pensionata di 77 anni di Alessandria con l'aiuto dei carabinieri ha tenuto in scacco per otto ore una banda di truffatori che volevano sottrarle oro e soldi. La scusa alla solita evitare l'arresto e la condanna del tribunale questa volta della nuora che aveva investito una donna incinta ed un bambino di 10 anni. La pensionata era stata contattata sul telefono fisso alle 11 del mattino dall'altro capo del telefono un giovane che diceva di essere sua nipote che aveva bisogno di soldi per evitare alla madre appunto di essere arrestate e finire in tribunale per un incidente. La signora dopo un primo momento di smarrimento ha deciso di chiamare il 112 per segnalare di essere la possibile vittima di una truffa. È scattata subito l'operazione dei militari che si sono recati a casa della donna nel quartiere pista ad Alessandria ed hanno scoperto che sotto casa c'era un uomo già incaricato della possibile riscossione. L'uomo è stato portato in caserma e gli è stato tolto il telefono con il quale comunicava con l'altra persona che manteneva i contatti telefonici con la pensionata. Il telefonista che continuava ripetutamente a chiamare la donna quando si è reso conto che il suo basista non rispondeva ha arruolato immediatamente un'altra persona. La pensionata allora ha confermato al telefonista di aver raccolto la cifra da consegnare e di essere pronta allo scambio che sarebbe avvenuto all'angolo di casa sua. I carabinieri hanno cerchiato la zona dell'operazione e la maggior parte dei militari era in borghese e sembravano pedoni di passaggio. Quando la pensionata è arrivata all'angolo zona dell'appuntamento dello scambio una giovane donna di appena 18 anni le si è avvicinate ed ha tentato di strapparle la borsa. A quel punto i militari sono intervenuti, l'hanno arrestata e ora la donna dovrà rispondere anche di rapina. Le indicazioni che diamo sono quelle di avvertire immediatamente il 112 qualora ci sia una richiesta di denaro a seguito di un evento che viene prospettato tragico perché sicuramente nessuna istituzione, nessun professionista a fronte di un evento tragico che riguardi la salute o la giustizia fa una richiesta di denaro. Quindi in quel caso bisogna subito allertarsi e chiamare il 112. Com'è finita poi? Tutti intorno ad un tavolo? Non naturalmente con i truffatori? Sì, alla fine si è fatto parecchio tardi e quindi si è fatta ora di cena e abbiamo avuto il piacere di ospitare la signora qui in caserma e mangiare una pizza con lei.